Bentornati su TheGiros. Oggi vedremo cos'è il modulo V8-BEN e come compilarlo nel caso in cui non l'abbiate fatto in fase di registrazione. Il modulo V8-BEN consente, coerentemente con quanto previsto dal Trattato Fiscale Internazionale applicabile, di ottenere un'aliquota minore, dal 30 al 15% di ritenuta alla fonte, su proventi, ad esempio dividendi e cedole, di origine statunitense. Al fine di poter beneficiare della riduzione della ritenuta dal 30 al 15% sui dividendi e usa, dovete compilare questo modulo. Tale riduzione spetta solo nel caso in cui un investitore abbia le seguenti tre caratteristiche. Abbiamo bisogno di avere la residenza anagrafica, la residenza fiscale, la nazionalità del conto corrente collegato, nel caso in cui abbiamo più conti correnti collegati il requisito fa riferimento solo al primo. Comunque tutti e tre questi elementi devono essere riferiti al medesimo paese, ad esempio l'Italia. Per compilare il modulo V8Benne bisogna seguire la seguente procedura. Dalla home del nostro account clicchiamo sul pulsante a forma di omino nell'angolo in basso a sinistra. Nel menu a tendina che ci comparirà clicchiamo su profilo e nella schermata che compare clicchiamo su informazioni fiscali. Sotto la voce modulo V8Benne troveremo un link per procedere alla compilazione del modulo. Una volta compilato questo sarà attivo istantaneamente. Per vedere se a seguito della vostra procedura di compilazione siete legibili a questa riduzione fiscale bisogna guardare nelle voci informazioni fiscali. Come potete vedere nel mio caso è stato rifiutato in quanto la mia residenza anagrafica non è in Italia ma il conto bancario collegato è un conto bancario italiano. Precisiamo che il beneficio fiscale non si applica su dividendi e cedole di tutte le azioni USA ma solamente per quelle entranti nella US Divisant Green List. De Giro all'interno della pagina di ogni prodotto americano ci dice se questi prodotti fanno parte di quella lista oppure no. Potete trovare questa informazione qui in basso a destra nella pagina relativa al prodotto. Se c'è il bollino verde il prodotto rientra nella lista. Se hai trovato valore in questo video iscriviti al canale e metti un mi piace. Nel caso ci fossero domande lascia pure un commento e ti risponderemo il prima possibile.